Signor Norberto No. Sì, per gli amici no no. Per gli amici no no. Allora, signor No No, la chiamerò, posso chiamarla No No? Sì, sì. Ok, signor No No, lei è capogruppo italiano dei negazionisti, leggo. Sì. E su questo argomento ha scritto anche un libro. Non è vero che ho scritto un libro. Eh ma, eh, cioè a me c'è scritto anche qui, a me mi hanno detto, guarda ha scritto un libro, che lei ha scritto un libro. Non è vero che ho scritto un libro. Eh ma è quello, cioè l'ha scritto o non l'ha scritto? Sì, no, l'ho scritto, non è vero che ho scritto un libro, il titolo del mio libro. Ah, ho capito, no, pensavo, scusi, che non capivo, non è vero che ho scritto un libro. Ok. Quindi, lì dentro c'è scritto tutto il suo pensiero? No. No. E che, vabbè, che c'è scritto? Vabbè, lasciamo, veniamo alla prima negazione, va bene? Quella più eclatante. Va bene? Allora, lei sostiene... No, non cominciamo, non sono io che sostengo, siamo noi, siamo in tantissimi, eh? Non mi riducano a piccola realtà. No, no, mi scusi, mi scusi, allora, voi, voi, sostenete che la Terra sia piatta e non tonda. No, noi sosteniamo esattamente il contrario, che la Terra non è tonda ma è piatta. Perché lei mi fa dire cose che io non dico. No, io ho detto... No, no, questo è il contrario, perché è un esempio, possono farlo... Questo esperimento possono farlo tutti a casa. Se voi guardate l'orizzonte, la Terra mica fa così, è dritta, è una cosa normale. Vabbè, però... E quello fa anche un bambino se ne accorge, perché praticamente il Polo Nord è il centro del mondo. E intorno c'è Terra ferma con un po' d'acqua. E la teoria delle Polo, la grande teoria delle Polo. Teoria delle Polo? Sì, è il buco con la Terra intorno. Non lo, giuro, non l'ho mai sentita questa teoria delle... Vabbè, quindi secondo lei, secondo questa ipotesi, insomma... Non è... Lei insiste con lei, secondo noi. No, scusi, scusi, non sei rapido. Eh no, perché voi volete dire cose che io... Farvi cose che io non ho...